In questo secondo video vi voglio presentare i lavori in corso presso la scuola primaria di Cigole. Tutti avrete notato che dal rientro a scuola dopo le festività natalizie infatti i nostri bambini sono ospiti di Palazzo Cigola Martinoni. In realtà questo intervento si può suddividere in due opere ben distinte. La prima opera è finanziata dalla legge numero 160 del 2019 denominata efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile. Legge in quali fondi sono confluiti poi nel PNRR. I fondi di questa legge statale sono assegnati a tutti i comuni d'Italia quindi a seconda della propria fascia di numero di abitanti vengono destinati degli importi. Il quadro economico di questa prima opera è di 56.776,40 euro finanziati tramite un contributo statale grazie alla legge appena menzionata di 50.000 euro e i restanti 6.776,40 da fondi propri dell'ente quindi del comune di Cigole. Questi lavori sono iniziati il 27 dicembre per ottimizzare la chiusura della scuola per il periodo di vacanze natalizie e si sono conclusi verso la metà di gennaio. Ma cosa è stato fatto? È stata fatta una demolizione totale del papimento del piano terra con successiva coibentazione con pannelli isolanti termicamente e anche dall'umidità e successivo rifacimento del pavimento con delle nuove mattonelle di grandi dimensioni. Questo non è che l'ultimo degli interventi di efficientamento energetico effettuati sull'edificio della nostra scuola primaria, tutti finanziati dalla legge 160 del 2019. Ricordo solo abbiamo provveduto negli scorsi anni alla sostituzione della caldaia con delle caldaie a condensazione di ultima generazione e la posa di controsofitti coibentati per abbassare anche l'altezza di quei grandi ambienti che ospitano le aure scolastiche. La seconda opera è ora in corso ed è stato possibile realizzarla grazie ad un bando che il comune di Cigole si è giudicato, dedicato alla messa in sicurezza di edifici e territorio, anch'esso confluito nel PNRR. In questo caso il quadro economico dell'opera è di un totale di 148 mila euro, 142 mila euro di contributo statale, grazie appunto al bando che ci siamo giudicati, e 6 mila euro di fondi propri dell'ente, cioè del comune di Cigole. Per questa seconda opera i lavori sono iniziati il giorno successivo la chiusura del primo cantiere, tutto questo per cercare di arrecare il meno disagio possibile ai nostri bambini. L'obiettivo era il miglioramento sismico dell'edificio che si concretizza con il completo rifacimento dei solai dell'ala est e dell'ala ovest. Questo rifacimento renderà la struttura più performante dal punto di vista sismico. È anche difficile entrare più nel merito della descrizione di quest'over perché è una materia molto molto tecnica. Salvo i previsti gli alunni potranno rientrare nelle loro aule circa per la metà di marzo, ma attenzione perché i lavori presso il polo scolastico di via Castello non sono conclusi. Nei prossimi mesi inizieranno importanti cantieri sul lato opposto del cortile, ma di questo ve ne parlerò nei prossimi video.